live social benvenuti amici di live social sono Ghetano siete sintonizzati come sempre sulle frequenze di radio news 24 con noi abbiamo in collegamento il nostro luca bianchelli ciao luca ciao buongiorno a tutti buongiorno a tutti come stai luca tutto bene sono al mare quindi meglio di così non si può ecco siamo pronti siamo pronti a ripartire insomma capisce insomma patria storica io ho dei ricordi bellissimi di capisce quando ero sbarbatello che andava a fare un poco di bisboccia lì quindi me lo ricordo molto bene non sei l'unico innamorato di capito scherzi infatti guarda quasi quasi ci torno adesso mi hai fatto venire in mente anche che quest'anno noi dobbiamo promuovere assolutamente l'italia e io andrò ai bagni 25 da luca luca raccontaci proprio la tua la tua attività insomma un po di caratteristiche anche servizi abituali che offre la tua clientela allora noi siamo io sono io e la mia famiglia siamo nati e cresciuti a capisce mare che appunto è un paesino che vive prevalentemente di turismo e abbiamo sempre sognato diciamo quello di stare a contatto con il turista stare a contatto col mare e quindi un paio di anni fa si è presentata questa occasione abbiamo preso i bagni 25 di capisce era il nostro sogno nel cassetto è una spiaggia appunto a conduzione familiare ed è un'attività che è rivolta esclusivamente e totalmente al cliente sai è una spiaggia che piace a tutti dai piccoli ai grandi le attività per i grandi possono essere il tennis i piccoli abbiamo dei supr non so se li conosci che è molto prestato perché poi si può andare a godersi anche un po diciamo il parco san bartolo che è qua vicino le normative quest'anno prevedono un 10,5 metri quadri minimo a ombrellone e noi dall'anno scorso trovavamo oltre 15 oltre 16 quest'anno però abbiamo voluto un po' esagerare un po troppo perché abbiamo tolto almeno un 40 per cento di ombrellone arrivando a 25 metri quadri ombrellone ricordaci anche come possiamo contattare bagni 25 di capisce sito web o pagine social dici tutto allora sì noi siamo presenti sia su facebook e su instagram come bagni 25 da bizzemare e invece il nostro sito internet è www.spiazza25gabizzemare.com 25 numero è certo allora che davvero davvero fantastico fantastico tutto quello che fa luca io poi ho avuto anche modo diciamo di andare un po' spulciare sui sulle pagine social è davvero un bel vedere complimenti per come tieni come mantieni la struttura luca complimenti davvero grazie mille grazie mille ma grazie a te noi ci salutiamo qui e speriamo di rivederci presto lì a gabice se vengo a fare bisboccia tornerò e verrò da te ma anche se non faccio bisboccia porto il cane faccio il telefono tranquillo ciao grazie ancora ciao buona giornata grazie ciao ringraziamo il nostro luca noi vi diamo appuntamento a nuove interviste come sempre targate live social cliccate mi piace condividete il video della sua intervista live social